Buonasera a tutti, rieccoci con l'aggiornamento del giovedì sera perché poi domani conferenza di Stefano Pioli, vigilia di Fiorentina Milan, si entra nel pieno, nel clou del campionato, della ripresa del campionato. In questo video prima parte parleremo dell'allenamento a Milanello dove le cose sono andate bene, Stefano Pioli finalmente ha avuto tutto il gruppo a disposizione, sono tornati tutti i nazionali, anche gli africani, Kessy, Benasser che sono sempre un po' gli ultimi a tornare a causa dei lunghi viaggi, si sono allenati, stanno bene, si è allenato anche Alessio Romagnoli, questa è la notizia del pomeriggio a Milanello, il capitano del Milan, poi ci collegheremo a quello che è successo in mattinata a casa Milan con l'incontro per il suo rinnovo con Mino Raiola, ma lui particolarmente si è allenato con la squadra quindi potrebbe andare verso la convocazione contro la Fiorentina, c'era anche Balloturè, Florenzi, insomma tutti i giocatori che abbiamo un po' nominato durante questa sosta, che abbiamo anche monitorato per capire lo stato di forma di questi giocatori, compreso Calulu. Calulu e Florenzi sono i due che si giocano una maglia per giocare al posto di Calabria. Calabria insieme a Castiglieco non hanno partecipato all'allenamento odierno, quindi sono ovviamente fuori per la sfida contro la Fiorentina. Un buon allenamento, sta bene Ibra, sta bene Giroud, Revic, Leao, Brian Diaz, insomma il Milan si prepara a questa importante partita contro la Fiorentina. Veniamo però anche al calciomercato, perché si sta cominciando ad entrare nel vivo, perché ci avviciniamo al mese di gennaio e quando ci si avvicina al mese di gennaio si scalda sempre un po' la situazione calciomercato. Stamattina abbiamo documentato la presenza di Mino Rayola in sede a casa Milan, c'è stato un colloquio di tre ore tra il procuratore di Romagnoli e la dirigenza rosso-nera. Il Miana sta provando a rinnovare Romagnoli, anche il giocatore vorrebbe prolungare, c'è l'intenzione da entrambe le parti di andare avanti, resta però da capire a quali cifre. Il Miana vorrebbe sicuramente una riduzione dell'ingaggio di Alessio Romagnoli. Però cosa emerge da queste ultime giornate di trattative? Che il Milan sta trattando con due potenti manager, da un lato Mino Rayola, con cui si tratta di Romagnoli, Ibrahimovic e attenzione anche a qualche giocatore giovane che ha proposto Mino Rayola durante questo colloquio con il Milan, perché è durato tre ore. In tre ore non solo è stato affrontato l'argomento Romagnoli, ma da quello che filtra anche qualche giocatore sudamericano e soprattutto francese proposto da Mino Rayola in queste ore. Quindi stiamo cercando di capire quale sia il profilo messo sul tavolo di questa chiacchierata con Maldini e Massara, che sono sempre molto attenti anche alla politica dei giovani, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte. Da un lato quindi ci sono i rapporti con Rayola che continuano e qui ci rifacciamo al comunicato del club di qualche giorno fa quando ha detto che il Milan non ha alcuna preclusione con nessun agente, con nessun procuratore, compreso Mino Rayola. E poi oltre a Rayola c'è anche il nome di Jorge Mendes, che è un altro potente manager di giocatori, un altro potente agente FIFA che sta avendo dei rapporti importanti con il Milan, non solo per il rinnovo di Rafa Leao ma anche per la questione Renato Sanchez. Nelle prossime settimane è possibile che ci sia una forte accelerata sul contratto di rinnovo di Rafa Leao. Da quello che abbiamo capito il giocatore è molto vicino al prolungamento con il Milan. Dovrebbe passare dalla scadenza del 2024 a quella del 2026 e aumentare l'ingaggio dai 2 milioni che percepisce ora al doppio praticamente, a 4 milioni o magari 3 e mezzo più facili bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 4 milioni. Si sta cercando di limare questo tipo di differenza economica. Però c'è tutta l'intenzione del Milan di trattenere un giocatore che ha sempre coccolato, che ha sempre protetto, che ha tolto dal mercato in estate quando sono arrivate delle importanti offerte per Leao e che ora vuole blindare, vuole rinnovare. Così come Rafa, che sta benissimo a Milano, ha trovato il suo ambiente per crescere, ha trovato anche la squadra giusta e il progetto giusto per crescere stagione dopo stagione. Perché comunque Rafa Leao nei primi due anni a Milan non ha dato la sensazione di essere un giocatore continuo. Quest'anno sta dando la sensazione di essere un giocatore più maturo, più continuo perché è cresciuto. E come è cresciuto Leao è cresciuto anche il Milan e il progetto Milan. Questo ha fatto anche molto piacere al suo procuratore Jorge Mendes che quindi sta avendo dei buoni rapporti con il Milan. È molto importante che il Milan abbia ottimi rapporti con questi grandi procuratori perché attorno ai grandi procuratori, intendo grandi nel senso potenti, che hanno giocatori importanti nelle loro scuderie, è fondamentale perché con loro si possono fare anche degli affari, delle trattative relative a giocatori di livello alto. È per questo che è giusto che il Milan tenga buoni rapporti con sia Raiola che con Mendes. In particolar modo con Mendes si sta parlando anche di Renato Sanchez che è un centrocampista individuato per la prossima stagione se dovesse partire che è Frenchesi. Lui da quello che sappiamo vede comunque il Milan come una meta da raggiungere, come una squadra di alto livello in cui si può mettere in gioco e in cui può migliorare anche dal punto di vista della carriera. Perché con tutto il rispetto con il Lille il Milan è tutt'altra cosa e questo lo sa bene sia Mendes, lo sa bene anche il giocatore, mi riferisco al portoghese Renato Sanchez che ha comunque dei buoni rapporti anche con Leao quindi tra i due si parlano, c'è questo triangolo Mendes, Sanchez e Leao che vediamo abbastanza caldo Leao vicino al rinnovo, Mendes spinge per l'arrivo di Sanchez e il Milan è intricato dalla possibilità di sostituire Chessi con Renato Sanchez del Lille. Quindi sono comunque schermaglie iniziali perché il mercato non è ancora entrato nel vivo ma soprattutto questo tipo di operazione crediamo che non sia per gennaio, mi riferisco al portoghese Sanchez ma per giugno quando Chessi andrà via molto probabilmente a parametro zero. Ci vediamo domani da Milanello perché alle 14 c'è la conferenza stampa di Stefano Pioli poi allenamento e ovviamente il giorno dopo la partenza per Firenze dove finalmente si torna in campo partita assolutamente non facile da non sottovalutare, da non prendere sotto gamba ma ovviamente domani chiederemo tutto anche all'allenatore rossonero Stefano Pioli Grazie. Grazie.